E urca ben urca a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ci ritroviamo qui signori per andare a completare la missione degli incarichi settimana 4 Accetto la taglia della marchica delle dettagli dentro 30 secondi Da ratterraggio basterà venire qui ragazzi e fare esattamente così Dunque semplicemente come potete vedere abbiamo completato la missione Molto molto easy ragazzi, vi consiglio di venire qua ragazzi Perché appunto lì c'è la roba della pesca e qui c'è appunto la missione anche del pesce termico Dunque non ha fatto male questa qui pesca o raccoglie un pesce termico Dunque molto molto easy e ragazzi vi faccio vedere appunto tutte le taglie Vedete? Qui ragazzi voi potete andare dove volete Ovviamente eh, ragazzi voi potete andare dove volete Vi consiglio di venire qua o anche volendo un pochino più distante da qua Perché come potete, ce n'è una anche qua come avete visto Ce n'è una qua volendo anche, però qua secondo me è meglio perché c'è anche di là eh Però qua c'è proprio il tubo della pesca lì, esattamente lì ragazzi Dunque, questa ravvisione è molto molto easy ragazzi ovviamente 30 secondi dall'arterraggio Se non erro non funziona Se voi per esempio prendete il cannone che c'è in quel dirigibile là E poi vi sparate qua entro 30 secondi Mi sa che non funziona Ho provato prima ma non mi ricordo se ero più dei 30 secondi Provate ma non credo In ogni caso appunto decidete voi dove andare Insomma questa è la bacche che ve la faccio rivedere Decidete voi ragazzi Non è di più semplice, queste sono tutte le taglie presenti nella mappa Beh ragazzone ci vediamo tra pochissimo con gli Omni Spada Incarichi Omni Spada, Volus, Bisrachi, Ultra Bisunghi Beh ragazzone tra poco